Volontari per un giorno, Rigenerazione Urbana, si tratta dell'iniziativa insalita nell'ambito della quarta edizione della Primavera dell'Arte che si terrà domenica prossima nel complesso termale Capo Soprano di Via Europa a Gela. Volontari ed un gruppo di rifugiati richiedenti asilo politico ripuliranno i bagni greci. Si tratta di un altro bene archeologico di indubbio valore presente a Gela. L'obiettivo è quello di coinvolgere un numero elevato di cittadini per prendersi cura di questi beni perché noi diciamo una cosa chiara, il tempo della delega è finita, non possiamo far correre il fatto che diventi notizia che i parchi archeologici, così come questo sito, siano puliti. La notizia deve essere che sono sporchi, quindi noi vogliamo far diventare ordinario questo e per questo motivo inviteremo l'amministrazione comunale e tutti gli enti che ruotano attorno ai beni culturali a sersi attorno a un tavolo e trovare le strategie per rendere permanenti puliti i siti archeologici. La presenza domenica prossima dei ragazzi extracomunitari rappresenterà un vero e proprio sigillo all'integrazione tra i popoli. Non vogliamo isolare i nostri ragazzi ma renderli partecipi e quindi protagonisti attivi per quello che riguardano le iniziative di volontariato e anche di integrazione e coesione sociale e quindi questi ragazzi già da tempo partecipano anche con altre associazioni e per noi diventa importante così creare questa rete per cercare di coinvolgere e non varli annoiare. Abbiamo esponenti del Camerun, della Costa d'Avorio, del Gambia e del Senegal oltre all'Eritrea quindi è un contributo non indifferente per la città. Il direttore del Museo di Gela, Ennio Turco. L'occasione è quella di dare un segnale forte all'associazione, ai cittadini che le istituzioni hanno bisogno di tutti perché questi beni non sono della regione, non sono dello Stato ma principalmente sono della nostra collettività. Se non siamo noi a darci questa mano d'aiuto sicuramente questo territorio non avrà una promozione degna di tale. Enzo Castellana di Cantiere Gela Credo che ci sia un problema di riappropazione da un punto di vista fisico della città ma senza trascurare che l'appropazione fisica della città passa certamente lungo il percorso dell'identificazione dei valori che appartengono alla persona. Quindi il poter individuare quelle parti sociali che all'interno di un percorso identitario si riconoscono in un processo e tutto questo si trasferisce, si riflette immediatamente sui luoghi fisici a maggior ragione quando i luoghi fisici di una città sono intrinsecamente già imbibiti di valore come quello che stiamo trattando oggi, nella giornata di oggi, cioè i bagni greci.